Ciao a tutti, allora oggi sono qua per mostrarvi i miei libri di case editrici e autori poco conosciuti e di autori che hanno autopubblicato il proprio libro. Allora, ci sarà anche la case editrice Idea, che ho già fatto precedentemente un video dedicato a loro, ma ho aggiunto alcuni titoli, quindi ve li rimostro. Parto subito con loro e vi mostro prima alcuni loro titoli che mi sono stati autografati. Allora, parto subito con la duologia di Exilium di Andrea Peralaguzzi e di Hilary Secchi. Allora, il primo è Katabasis e il secondo è Anabasis. Poi ho qui Apparenze di Tania Di Goannon. Poi Specchio riflesso di Bellart Richemont. Poi ho qui due libri di Marco D'Abruzzi, che sono Cattivi ragazzi e Lettere da un passato futuro. Poi ho qui gli altri due che mi sono stati autografati sono Inesistenza di Fabio Suraci e il primo di una trilogia che è Witch e Hunters di Erin Learid. Poi adesso passo agli altri libri della casa editrice, che sono Il seguito di Apparenze, che è oltre le Apparenze, che questo è il secondo, che è una duologia. e l'altro è sempre di Bella Richemont, che è Ravenant. Poi ho qua Missing Trains di Rossella Palloni. Poi, qui nella penombra di Carlotta Benedetta Bragaglia. Poi, il lato scuro dei Frutti di Mare di Giovanni Niquiforos. Poi, una duologia di Tommaso Borgogni, che è il primo, Il sangue dei liberi. E il secondo, che è Il canto dei liberi, che fanno parte di una trilogia. Poi, ho qui anche L'Araldo dell'Orso, che è il primo libro dell'Ere di Cristallo di Daniele XIII. Poi, adesso vi mostro dei libri collegati, che sono autopollicazioni, collegati ad alcuni autori della casa editrice Idea. Allora, il primo che vi mostro, ve lo mostro in Kindle, perché questo qua lo trovate solo in ebook. Che è sempre di Bella Richemont, che è Natura Matrigna. Questo qua. Poi, passando invece ad altri autori, ho qui di Tania De Joanno Noi oltre i confini del tempo il primo e il secondo volume di un altro gira di smorfia che è questo il primo e questo è il secondo che sono una raccolta di racconti basati sulla smorfia napoletana. Poi, poi ho qui quattro libri di Fabio Suraci che è Amare oltre i limiti del cuore Poi Ascoltando la notte che è una raccolta di racconti Poi Paura 14-11-2003 e 13-2-2021 Poi Gattaland di Sempre Suo che parla di parla della di questa colonia di gatti che appunto è Gattaland in versione romanzata e poi sempre di Bella Richemont ho qui Il Cavaliere Senza Corpo che è un breve racconto Poi adesso passo agli altri libri Allora vi faccio vedere le autopubblicazioni Il primo è Sette dopo il tramonto raccolta di racconti di Gaetano Cappello Poi Fermi a semaforo di Erika Giannaccone Poi Biblion di Mary Lou Lanziani Ha una copertina stupenda questo Poi La Quercia di San Valerio Poi due libri di Azzurra Pasquali che sono Wild Hunt Cacciatori di Potere e Numbers Poi l'ultimo è La Rivencita della Perigina di Diego Zappaterra Poi adesso passiamo alle case editrici Allora di questa autrice ho il primo e il secondo volume ma il primo è stato è uscito con la casa editrice secondo invece l'auto pubblicato allora sto parlando di Giulia Moninari la di serpenti che questo qua è uscito per Europa Edizioni che si in Europa Edizioni si invece il secondo che è stato autopubblicato che è sempre la di serpenti 2 io Angelo Custode del diavolo con questa mappa sopra poi invece dalla casa editrice di bruza che è il primo di una trilogia che ricordino fanno rumore di Carmen la terza poi della mosaic novel Cleanaman la fine degli inizi di Sara Gavioli poi ho qua tre libri della book book e sono Enrico di Francesca Alvarofalo e il primo e il secondo di cronica di mesotes di Alberto Grandi allora il primo è la guerra del portatore e il secondo è la furia del portatore poi ho qua della Neapolis Alma Edizioni ho qui Laila di Massimo Piccolo poi della Doomwick Edizioni ho qui Susie Moore e il viaggio e il nuovo viaggio al centro della terra di Aneta Book che questo qua ce l'ho anche in ebook e l'ho voluto prendere anche in cartaceo poi della Terra Santa dovrebbe essere questo qua Edizioni Terra Santa sì La Felicità ai miei piedi di Marica Ciaccia poi della Intrecci Edizioni ho qui Fuoco e Ghiaccio di Carnilla D sì anche questo è autografato poi Parlami di te di Roberto Pulcini poi Il Seme Bianco qui Legianare di Gaetano Lamberti poi della Aletti Edizione Editore Il Tesoro del Mercenario di Maria Antonia Martilde Zambelli che anche questo è autografato Poi Il Canto delle Ossete di Letta Lombardo e Gianluca Luardi che è la casa editrice la Robin Edizioni poi ho qui della casa editrice Re Artù Lunga vita al re di Irene Catalbiano e Riccardo Giannaccone Poi dell'edizione Frecce ho qui non dimenticarlo di Luca Contato e gli ultimi tre sono della Ruota Edizioni e sono tutti tre dello stesso autore che anche questi ho fatto la recensione e lo trovate sul mio canale e parlo di Lorenzo Iero con Sir Blake nel Regno di Ishi poi il suo seguito che è Sir Blake e la Maledizione dell'Erfo Scuro e un racconto ambientato in Russia su Baba Yaga che è Pochimuchka questo qua con questo concludo il video spero che non vi abbia annoiato e ci vediamo al prossimo